Rosso come il cielo è il film che ho realizzato qualche anno fa interamente girato a Genova era ispirato alla storia di un famoso montatore del suono non vedente che da bambino messo nel vecchio studio di Chiosone scopre che riesce a costruire delle favole fatte di rumori e quindi gli si apre il mondo della creatività ed entra in lotta contro i poteri conservatori dell'epoca è stato un film sicuramente che ha avuto un grande successo sia in Italia che all'estero ha vinto tanti premi fra cui anche il Davide Donatello in Italia ma tanti festival internazionali in Giappone è stato fatto un romanzo addirittura tratto dal film e continua pure oggi ma credo anche a Genova continua a attirare moltissimo anche le proiezioni per le scuole perché è un film sicuramente di un grandissimo impatto educativo è un film che al di là del problema della cecità e dell'integrazione insegna a tutti noi come lottare sempre non smettere mai di lottare per i nostri sogni un film più leggero, più divertente, è una commedia sentimentale anzi molto divertente, è un po' come una commedia all'americana al Ben Stiller dove però ci sono comunque degli elementi anche a mio avviso di romanticismo mi dicono che io sia una persona molto romantica quindi inevitabilmente non si può nascondere questo lato il protagonista è Guglielmo Scilla che è romantico per eccellenza ma anche tenero insomma che è Will Wush in arte star del web, mega star del web il suo canale più visto d'Italia che qui fa appunto la parte di questo ragazzo sfigatissimo romantico ma incapace di sedurre una donna qualsiasi che viene aiutato dal padre a scoprire se nella vita esistono delle regole perfette per sedurre una ragazza e i risultati saranno tragicomici Guarda, Guglielmo è un talento naturale naturale significa è naturalmente simpatico, solare, entusiasta e questa cosa sicuramente lo schermo la percepisce questa energia pazzesca però la cosa che credo sia molto interessante è che oggi tutti i filmmaker, i ragazzi giovani che si avvicinano al linguaggio audiovisivo attraverso il web hanno comunque l'opportunità di fare una gavetta incredibile cioè Guglielmo nelle sue decine e decine di video comunque ha imparato a diventare attore anche senza aver fatto una grande scuola lui mi ricorda sempre che non è stato ammesso al centro sperimentale come attore il che è straordinario al contrario molto spesso gli attori che rimangono inchiodati nella palude delle scuole, delle prove, dell'ossessione e non mettono mai in pratica realmente il mestiere spesso diventano un po' tromboni, diventano un po' finti, retorici non si nutrono della vita come invece avviene a molti internauti Nel film non esistono soltanto le dieci regole raccontate dal padre questo decalogo un po' buffo ma come voi vedrete ci sono tante altre regole ognuno ha le sue dieci regole in sostanza quindi anche altri personaggi della storia propongono le proprie regole a partire dall'antagonista, il cattivo che è interpretato da Giulio Berruti un altro attore generalmente che fa sempre queste parti super romantiche e che qui invece fa la parte del cattivo molto comico che è un vero bastardo le sue regole sono le regole del Valentino senza vergogna e senza pietà che è disposto a tutto pur di ingannare una donna Guarda, io ogni film penso che sia un viaggio, un'avventura e quindi in ogni film uno cerca di sperimentare almeno io cerco di sperimentare qualche cosa in questo film sicuramente la grande sfida è stata Guglielmo ma anche il resto del cast che è molto composito, buffo, particolare Vincenzo Salemme è un attore appunto straordinario tutti lo conosciamo ma è noto principalmente per la comedia brillante che lui ha fatto fino ad oggi in questo film lui ha delle corde che saranno sorprendenti perché oltre a far molto ridere fa la parte di questo padre che cerca di recuperare un rapporto con il figlio per cui ci sono delle parti veramente molto intense sono le parti più emozionanti del film sono quelle dove c'è questo rapporto tra padre e figlio poi ci sono degli altri attori molto divertenti c'è un cameo del trio Medusa che fa un tormentone comico come solo lo possono fare c'è quest'attrice napoletana bravissima che si chiama Fatima Trotta che è la conduttrice di quel programma Made in Sud e che anche lei credo sia una scoperta, davvero c'è Giulio Berruti che interpreta, come dicevo prima qui un ruolo comico mentre invece lui di solito è il bellone delle fiction televisive quindi diciamo che c'è un comico di Zelig, Giorgio Verducci padre Donovan, quello sempre incazzato con la mazza da baseball che ce l'ha con le donne quindi diciamo che è alla fine un grande gioco un grande divertimento è stato per me allora un saluto a tutti gli amici di filmdoc.it su cartaceo, sul web da Cristiano Bortone e spero che andrete tutti a vedere questo nuovo film 10 regole per far innamorare dal 16 marzo al cinema ciao